Energia positiva per il tuo business e questo il tema e l'idea forza della giornata organizzata dalla Confartigianato a Talzano come crearsi lo stato d'animo per superare stress e difficoltà. Protagonista Terenzio Traisci. Il tema è Felicemente Stressati, può essere oggi un artigiano felicemente stressato considerando le vessazioni che ci sono anche a livello fiscale? Sì, nel senso che Felicemente Stressati è un modo di affrontare lo stress, cioè con lo stato d'animo positivo quindi a maggior ragione quando arrivano delle cose dall'esterno che non possiamo controllare se le ammortizzi e quindi ti fai trovare preparato riesci a affrontarle bene. Quindi l'adrenalina è necessaria anche per spingere le attività? Sì, più che adrenalina è endorfine, serotonina, insomma quello che si sviluppa quando si ride, quando si è di buon umore. Dopo aver sentito appunto la mattina Terenzo Traisci, avremo le aziende che partecipano, che sono quelle appartenenti alla federazione comunicazione, che si sono rese disponibili per dare un proprio contributo come mezzi appunto per dare un contributo alla comunicazione. Senta Trici, lei si è messo questa maglia, però vi faccio vedere cosa c'è scritto qua. C'è scritto maglia di ricambio. E questo cartello allora? C'è scritto grazie. Prego, prego. Arrivederci.